I nomi in italiano possono essere maschili o femminili. Alcuni nomi con la stessa radice hanno significati diversi a seconda del genere. Ad esempio Il foglio La foglia Il foglio Il foglio serve per scriverci sopra. La foglia è quella che cade dall'albero. Insomma, mi raccomando Il foglio La foglia Il foglio Il foglio Il foglio